Dentro o fuori è questione di ore. Gaetano Manfredi, l'ex ministro dell'università, comunicherà se è disponibile a candidarsi a sindaco per guidare l'alleanza tra Demme e 5 Stelle. Dopo la lettera in cui l'ex rettore ha lanciato l'allarme sulla situazione finanziaria del comune, è partito un pressing per convincerlo a ripensarci. Oggi il vertice che porterà in un modo o nell'altro a chiudere la partita. La candidatura ufficiale di Catello Maresca nel centro-destra ha reso ancora più urgente trovare una sintesi sul candidato a sinistra. Nel frattempo parte la campagna del PM Antica Morra Maresca, ma nel centro-destra cominciano pure le scintille, dopo che il magistrato ha dichiarato che non salirà mai sul palco con Luigi Cesaro. Il parlamentare di Forza Italia ha coinvolto in diverse inchieste giudiziarie. A difendere Cesaro ci pensa il coordinatore del partito di Berlusconi, Domenico Odessiano. Se ne faccia una ragione Maresca, l'ex presidente della provincia è incensurato. Il candidato sindaco del centro-destra vuole nelle sue liste solo profili blindati e di specchiata moralità. Insiste sul civismo, prende le distanze dai simboli, ma Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non sono disposti a mettersi nell'ombra. Più di tutti gli azzurri di Forza Italia che in queste ore devono fare i conti con la fuga del vice coordinatore regionale del partito, Cosimo Sibilia, che ha aderito al nuovo progetto politico Coraggio Italia, creato da Brugnaro e Totti. Cosimo Sibilia è stato tra i fondatori degli azzurri in Campania, ma la costituzione del nuovo soggetto politico non gli impedirà di sostenere Maresca alle elezioni di Napoli, ha dichiarato il deputato Irpino. Sullo sfondo, una questione di opportunità già sollevata da De Magistris e ora anche Bassolino attacca, sbagliato candidarsi dove si esercitano funzioni delicate.